2010 per Mourinho, il miglior anno di sempre, grazie al triplete con l'Inter e poi all'esperienza nel Real Madrid. Unico neo di una stagione praticamente perfetta rimane quel 5-0 subito contro il Barcellona al Camp Nou, nel campionato spagnolo. Senza quel risultato, recrimina il tecnico portoghese, il mio anno sarebbe stato perfetto. Premiato per l'ennesima volta in patria, stavolta dal quotidiano sportivo record, Mou confessa di sentire la pressione di dover ottenere i risultati e quindi titoli. Tutti vogliono che io vinca trofei il più presto possibile, spiega. Nei grandi club e il Real lo è, c'è sempre questo tipo di pressione ed è molto forte. L'ideale sarebbe rimanere a Madrid fino al termine dei 4 anni del mio contratto, ma io lo so e lo sapete tutti che non potrò rimanere 1, 2 o 3 anni senza conquistare dei titoli. Sono le regole del gioco, devo guardare al futuro e non posso stare una vita intera a Madrid senza vincere. Un pensiero poi va all'Inter. È la squadra migliore del mondo, dice, e l'ha appena dimostrato vincendo il mondiale per club.